Ciao Sephora Beauty Community, io mi chiamo Giulia e sono una makeup artist. Oggi sono qui con voi per farvi vedere come creare una base perfetta. Come primo prodotto utilizzo il Close-Up Futuristic Foundation. Questo fondotinta lo adoro perché è un fondo assolutamente trasversale e perciò può essere utilizzato su molteplici tipi di pelle perché ha questo finish matte luminoso che vi permette di modulare il prodotto in base a come preparate la pelle. Prelevo una piccola quantità di prodotto e inizio a tamponarlo sul viso e successivamente col mio Foundation Buffer Brush incomincio a lavorare il prodotto con movimenti che vanno verso il basso. Un'altra cosa che mi piace moltissimo di questo fondo è la sua media coprenza e in questo modo riesco anche a modulare la coprenza in base allo strumento che uso per l'applicazione e anche la quantità. In questo caso il Foundation Buffer Brush lavorerà il prodotto poi essendo anche abbastanza piccolo riesco ad arrivare proprio in tutti i punti del viso e se voglio posso stratificare il prodotto per avere una coprenza un pochino più importante. Quindi questo è un prodotto che consiglio sia per i makeup artist sia per il consumatore che lo usa da tutti i giorni. Oltretutto questo fondo ha una durata pazzesca quindi vi permette di metterlo alla mattina e poi non dover fare ritocchi fino alla sera. Ed eccomi con uno strato di prodotto riuscite a vedere che ho una base molto uniforme ma comunque risulta naturale e questo per me è importantissimo. Inoltre il finish non è né troppo luminoso né troppo opaco. Ora passo al Close Up Concealer e questo è il nostro correttore io utilizzo la tonalità Golden Beige questo è un correttore molto coprente e elastico quindi ne applico proprio una piccola quantità solo nelle zone in cui desidero una maggiore coprenza. Utilizzo una tonalità leggermente più chiara in questo modo riesco anche a illuminare un pochino queste zone. Ora passo al mio Flawless Makeup Sponge e questo lo utilizzerò per sfumare il prodotto sempre tamponandolo in questo modo non rischiamo di spostare la base e riusciamo ad ottenere il finish migliore. Come potete vedere con poco prodotto abbiamo illuminato tantissimo la zona e abbiamo coperto le discromie. Ora passo alla Close Up Baking and Setting Powder e questa cipria in polvere libera la utilizzerò per settare il mio contorno occhi con un soft baking. Per ottenere questo effetto riprendo la spugnetta prendo poco poco prodotto sulla spugnetta e presso questa cipria proprio nella zona del contorno occhi che voglio settare. Quello che mi piace molto di questa cipria è che è tanto sottile e quindi non va a seccare eccessivamente la pelle. Quindi come vedete riesco ad usare la spugnetta per fare tantissime cose differenti. Invece per il resto del viso uso la Close Up Smoothing Press Powder nella colorazione medium e il Big Powder Brush. Questa cipria è bellissima perché opacizza la pelle ma ha anche delle proprietà leviganti e quindi soprattutto se avete problemi con i pori dilatati oppure semplicemente volete levigare maggiormente la vostra pelle questa cipria è perfetta. oltretutto potete usarla per fare ritocchi durante il giorno e non vi va a creare troppo strato sull'incarnato. Lo accompagno con il mio Big Powder Brush essendo che è un pennello con tantissime setole quindi proprio riesco a settare tutto il viso velocemente e ha queste setole morbidissime che proprio vi accarezzano il viso. Eccomi qui con il look terminato io spero davvero che vi sia piaciuto e con questo vi mando un bacio grandissimo. Ciao a tutti!